eccoci buonasera buonasera a tutti stasera parliamo di un argomento rispetto al quale io sono tutto sommato fortunatamente abbastanza ignorante da lo dico nel senso che non sono una prof una una conoscente diciamo una conoscitrice scusate dell'argomento di cui parleremo stasera in modo approfondito parliamo di sanità sanità salute cosa sta succedendo siccome ne parlano tutti allora magari è il caso di parlarne anche un po anche noi cioè parlare però in maniera alla nostra maniera l'esperto dell'argomento raffaele raffaele buonasera se ti facciamo finta che io sono una che viene da un altro mondo ok e insomma tu mi hai già spiegato più o meno che insomma ci sono delle strutture qua sulla terra che in italia in particolare che si dovrebbero occupare della salute dei cittadini ok quindi partiamo da questo da questo punto ecco mi racconti un po che cosa succede cosa sta succedendo perché tutti parlano di sanità che io non lo capisco arrivo da un mondo molto lontano insomma per cui non lo so ti ascolto allora sì ciao Katia ciao a tutti dunque a un extraterrestre direi che la nostra sanità pubblica era la nostra conquista sociale più grande l'eccellenza italiana nel mondo ma ultimamente diciamo che è un paziente se vogliamo usare in questa similitudine con la clinica visto che siamo in tema è un paziente che prima si è ammalato di una patologia abbastanza grave anche in giovane età diciamo già da dai 45 anni e poi adesso è addirittura un malato terminale perché tutto quello che doveva garantire appunto la salute dei cittadini adesso purtroppo non non è più garantito diciamo quindi questa è una prima una prima introduzione poi dimmi tu fammi sapere tu queste extraterrestre che cosa vuole sapere meglio più approfonditamente no allora l'extraterrestre si chiede per quale motivo tutti questi terrestri si continuano a lamentare del fatto che la sanità non è più al servizio del cittadino cioè mi spiego è abbastanza comune soprattutto per le persone di una certa età e quindi insomma in qualche modo mi ci metto anch'io ricordare quei vecchi tempi nei quali in qualche maniera c'erano delle figure che erano dei punti di riferimento per le persone cioè parlo del quello che insomma si chiama il medico di base no cioè quello che io mi ricordo ero bambina veniva a casa non appena mia mamma chiamava e diceva adesso torno sulla terra non appena mia madre chiamava e diceva katia non lo so dei puntini rossi sulla pelle d'accordo arrivo quando finito le visite quindi che fosse di mattina alle sette o di sera alle otto questo medico con la sua valigetta tipica me lo ricordo benissimo bravissimo medico tra l'altro veniva curava rassicurava parlava perché era poi diventava anche una specie di figure insomma di riferimento anche per i piccoli sfoghi quotidiani veramente erano questo tipo di persone qua noi medici di base ma cosa è successo secondo te perché non ci sono più questi medici di base detto ciò secondo me ci sono anche altri problemi no cioè io sento parlare della carenza per esempio di medici che cosa 10 cosa c'è dietro questa faccenda no anche questa io io ho assistito da buona boomer a quella che è stato il grande processo di chiusura delle facoltà di medicina no che è una chiusura che era stata fatta a suo tempo perché in qualche maniera si pensava che fosse un elemento diciamo di qualitativo no nella preparazione dei medici come se prima fossero scarsi questa cosa qua comunque tutti hanno abbracciato e hanno hanno sposato questa teoria della chiusura delle facoltà di medicina e adesso io sento solo lamentere non ci sono più medici ecco ma è un problema di medici è un problema che forse c'è un iter di specializzazione che è penalizzante per i giovani medici c'è un problema di concorrenza dell'estero anche questa cosa qui scusa se te la faccio un po lunga ma io sento tanto parlare di stipendi no di dei medici anche giovani medici all'estero però io guardate io lo dico cioè all'estero anche la vita costa molto di più che da noi è molto più cara che da noi cioè io comunque una piccola idea ce l'ho no quindi è proprio un fatto semplicemente che vanno via per 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 una questione di stipendio o c'è forse anche un ambiente diverso no quindi te ne ho messi due lì ma poi ce ne potrebbero me ne vengono in mente altre dieci di cose che sento quindi mi fermo e lascio a te la parola e poi vediamo anche un po massimo che è un esperto anche lui no è un po della della materia e quindi magari ci dà degli spunti in più prego raffaele allora si hai ripercorso benissimo le tappe cioè prima era un sistema che comunque garantiva salute e benessere sociale e poi che cosa è successo fondamentalmente ecco quindi dal 1978 con la sua nascita la 833 ad opera della deputata socialista tinanselmi ecco dal da allora fino al diciamo 92 che diciamo è stato un sistema che ha pur con i suoi problemi appunto garantito salute e benessere sociale poi nel 92 che cosa succede è l'anno del famoso trattato di maastricht è l'anno in cui gli ospedali diventano diventano non a caso aziende proprio in quell'anno e quindi diciamo così che questo questo sistema si si ammala di 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 neoliberismo viene infiltrata dalle delle dinamiche del del neoliberismo e così un sistema che doveva essere appunto doveva salvaguardare solo unicamente la salute ecco poi entrano in questo sistema le logiche del profitto e quindi quando entrano logiche del profitto e salute diciamo che sono due concetti che non stanno insieme che costano e oggi infatti vediamo tutti i tutti i suoi paradossi paradossi che hai appunto elencato da quando far parte lavorare per il servizio sanitario nazionale era un motivo di di orgoglio io sono un infermiere e non non vedevo l'ora dopo la mia laurea di prestare il le mie competenze professionali appunto per il servizio sanitario nazionale ma adesso che cosa sta succedendo sta succedendo questa vera e propria emorragia di personale sanitario che emigra verso il privato o verso l'estero perché a capo c'è un sistema che non garantisce a capo diciamo chi gestisce le leve di questo sistema il servizio sanitario nazionale è infiltrato da logiche di profitto e quindi ha a mente solo il il massimo profitto delle aziende appunto delle aziende ospedaliere e quindi non più la salute dei pazienti e dei dei dipendenti diciamo dei sanitari che devono garantire questo diritto e quindi è un sistema che spreme fino all'ultima goccia i sanitari che sono all'interno per garantire il diritto alla salute sanitari che non appunto non ce la fanno più soprattutto dopo quello che è successo con la stagione pandemica psicopandemica chiamo e quello è stato un elemento di rottura un elemento di rottura che appunto ad oggi pone il sistema tutto come un vero e proprio come dicevo prima malato terminale ecco mi piace utilizzare queste in questi paragoni con la clinica perché appunto visto che parliamo di salute ecco quindi il nostro servizio sanitario nazionale sta perdendo le competenze pluristratificate dei dei professionisti al suo interno e che appunto decidono di emigrare verso fuori perché è diventato un sistema che non non ha a cuore il benessere e allora si si vedono si valutano alternative lasciando però appunto questo sistema praticamente abbandonato e le persone poi di conseguenza sono sguarnite del della risposta al bisogno di salute. che dovrebbe essere preso in carico da questo sistema quindi ad oggi i paradossi quindi stanno emergendo i sanitari vanno via la gente non riesce ad essere curata e che cosa fa il nostro governo per porre diciamo mettere sempre solo le pezze a queste a queste contraddizioni diciamo che adotta solitamente tutti i governi a dire la verità che si sono avvicendati dal 92 in poi hanno solo messo pezze ad un sistema che però adesso sta implodendo esplodendo nessuno pone nessuno è in grado di diciamo mettere a disposizione di questo paziente malato terminale una terapia che sia davvero volta a curare la radice del problema la radice del problema è che abbiamo perso la sovranità monetaria e servono investimenti a pioggia per rianimare questo malato terminale e quindi ogni volta che si sollevano dei problemi io mi ricordo quando lavoravo lavoravo e dovevo rientrare sul miei giorni di riposo e mi spiegavano che non c'era personale perché mancano i soldi ecco quindi e quindi il problema è sempre la radice la causa mancano i soldi e togliamo sempre lì questa cosa del mancano i soldi mi richiama subito a massimo cioè mancano i soldi ho fatto massimo massimo ti prego cioè io veramente mancano i soldi bisogna cominciare a spiegare alla gente che questo concetto è un concetto che non esiste i soldi non si creano per volontà divina ma c'è qualcuno che li emette questi benedetti queste banconote qualcuno che decide quanti devono essere questi soldi santo cielo e potenzialmente non finiscono mai quindi massimo ti prego tu che sai di moneta e di sanità aiutami tu allora la quantità di moneta che immetti nel sistema quella che si chiama la politica monetaria no che dovrebbe essere al servizio della crescita del benessere della popolazione noi chiaramente siamo in un sistema che non è neanche neoliberista è ordo liberista ci stiamo arrivando veramente al 1984 di oro quindi pochi personaggi hanno deciso che nel benessere devono starci solo loro e gli altri devono essere sostanzialmente degli schiavi quindi cominciamo a capire perché non vogliono immettere moneta nel sistema per risolvere i problemi delle popolazioni perché immettere i soldi nel sistema per salvare l'euro piuttosto che per comprare armi per l'ucraina piuttosto che per favorire gli amici degli amici loro quello si può sempre fare ok non c'è nessun tipo di problema quando bisogna costruire infrastrutture bisogna costruire ospedali assumere medici o infermieri questo improvvisamente diventa impossibile c'è questa carenza come se i soldi appunto venissero minati se ci fossero delle miniere in cui la gente deve andare a scavare per trovare i soldi quando invece basta cliccare un invio sulla tastiera di un pc e i soldi vengono creati ricordiamoci che Draghi ha creato migliaia e migliaia di miliardi di euro solo per salvare l'euro ok e durante quegli anni non abbiamo avuto inflazione quindi anche quelli che sono tifosi della teoria quantitativa della moneta cioè è dimostrato nei fatti che non è assolutamente valida ok perché è vero che se io aumento la quantità di moneta a parità di condizioni di produzione posso scatenare dei fenomeni inflativi ma se la moneta la immetto per fare degli investimenti e per esempio gli ospedali e l'assunzione di medici è un investimento ok non c'è assolutamente problema perché aumento anche i servizi aumento il numero di persone che possono consumare aumentando il numero di persone che possono consumare gli imprenditori produrranno di più certo che se però noi dobbiamo seguire una politica europea in cui dobbiamo essere mercantilisti al massimo dobbiamo solo esportare altro modo per procurarci tra virgolette massa monetaria in più e per fare questo dobbiamo deprimere i consumi interni è chiaro che noi ci impoveriremo sempre sempre di più ok e potremo sempre meno garantirci anche la salute perché purtroppo ormai il sistema sanitario come diceva Raffaele è un morto che cammina perché già solo se guardi i dati dal 1998 i posti letto in Italia hanno 5,8 che non erano tanti rispetto per esempio a quelli della Germania che sono circa 10 oggi noi oggi galleggiamo in un intorno tra i 2,9 e i 3 posti letto ok cioè siamo proprio per mila abitanti cioè siamo proprio alla frutta questo è stato voluto perché parte per cercare di favorire il privato ma il privato lo favorisci però come? con quelli che possono pagarsi le cure cioè con il dirigente che ha l'assicurazione sanitaria con il benestante che può pagarsi la TAC la dissonanza magnetica eccetera infatti nell'ultimo anno si è visto che la gente ha speso 40 miliardi in più per curarsi 40 miliardi sono tanti sono soldi che il sistema pubblico non ha coperto quindi sono servizi e c'è tanta gente che non avendo i soldi non si è curata quindi ne sarebbero stati spesi molti di più se la gente avesse avuto tutta benessere e avesse potuto curarsi questo è gravissimo perché il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito e i livelli essenziali di servizio vorrebbero essere garantiti per tutti e qua cominciamo con l'ipocrisia anche dei livelli di servizio ormai sappiamo tutti Raffaele lo sa meglio di noi le varie prescrizioni che fanno i medici con urgente, non urgente entro tre giorni, entro dieci giorni entro trenta, sessanta, centottanta no centoventi mi sembra che sia al massimo se non sbaglio però tu prova a fare una prenotazione anche con una prescrizione a tre giorni non ci riesci non ci riesci cioè le liste d'attesa per una risonanza magnetica sono a un anno a uno come fa a aspettare un anno se sta male ecco tu dicevi noi siamo anzianotti Katia ci ricordiamo ma tu ti ricordi quanti ambulatori c'erano in giro per i quartieri e noi quando eravamo piccoli non venivamo portati i nostri genitori non andavano in ospedale quando stavano male andavano negli ambulatori cioè oltre ad esserci il medico di medicina generale c'erano anche gli ambulatori tu avevi un appuntamento entro una settimana e continuo a dire non ci sono i soldi i soldi ci potevano non essere allora perché eravamo ancora in un sistema monetario che era legato all'oro ma dal 71 i soldi ci sono sempre sempre quando si vogliono trovare perché basta basta emetterli con un clic sul computer non abbiamo più un problema di scarsità di una materia sottostante quindi è semplicemente una volontà politica la volontà politica è quella di creare degli schiavi che devono soffrire comunque che devono soffrire stando nella precarietà del lavoro che devono soffrire se si ammalano poi chiedimi perché non lo so perché perché vuol dire che abbiamo delle elite che sono disumane perché gli strumenti per rendere la popolazione non dico felice ma comunque benestante quel minimo dignitoso ci sono per curarla per istruirla le risorse ci sono è che si vogliono trovare solo quando sono indirizzate ai loro permettimi porci interessi come quello della guerra per esempio è tutto lì però allora facciamo una considerazione più generale no allora adesso probabilmente io sono abbastanza dell'idea che un po' di cose andranno a cambiare perché noi siamo vissuti anche per un certo periodo la gente penso che se ne sia accorta dove c'è questo non voglio complicare le cose però questa teoria un po' neomaltusiana per cui meno siamo e meglio è secondo me è un po' entrata nelle test nelle test di qualche dirigente della sanità e mi fermo qua mi fermo qua perché ci siamo passati e abbiamo visto che in realtà è così però a questo punto che vantaggio possono avere le classi dirigenti sempre ammesso che tra un po' saranno le stesse perché io sono abbastanza dell'idea che tra un po' si stravolgerà tutto il mondo e lo stiamo già vedendo infatti molti sono molto agitati però che interesse possono avere cioè io ti seguo Massimo in questo ragionamento ma qual è l'interesse nel creare la gente cioè nel far sì che la gente si incazzi a morte cioè qual è l'interesse perché poi alla fine sai cioè uno parla di salute e poi cominciano ad esserci elementi di vabbè lasciamo perdere i delinquenti però c'è anche tanta insofferenza rispetto alle figure al personale adesso magari Raffaele me lo dice magari me lo può confermare cioè a coloro che si occupano della nostra salute una volta ci si affidava adesso c'è sempre quasi una sorta di sospetto della serie non mi stai curando come dovresti perché ti stai facendo gli affari tuoi ecco restiamo nell'ambito civile e quindi quando tu hai questa sensazione poi alcune remore anche rispetto allo scontro che puoi avere col personale sanitario vengono a cadere secondo me cioè toccami la salute ma io mi incasso di brutto quindi qual è l'interesse di un'elite di una dirigenza a far sì che la gente si arrabbia al punto tale che poi ti viene sotto casa ad aspettare perché è di questo che stiamo parlando no? cioè non riesco veramente a capire quale possa essere la logica qui secondo me è molto più banale la cosa cioè qui c'è gente che veramente ha pensato a un certo punto di poter risparmiare di poter risparmiare giocando sulla salute degli italiani ma è tutto un fatto che parte come dice Raffaele da un concetto di chiamiamolo neoliberismo cioè non lo so io non lo so ma addirittura mi sembra fin troppo di dargli un tono fin troppo alto chiamando tutta questa faccenda neoliberismo cioè secondo me è molto più banalmente l'incapacità di avere una visione che va a ripercuotersi in questi aspetti qua sociali cioè non lo so Raffaele sono io che voglio minimizzare e trattare tutti quanti come dei minusaventes quindi semplicemente do degli idioti a quelli che ci hanno portato questa situazione o secondo te c'è di più illumina mi dai sicuramente ci sono state delle incapacità politiche gestionali che si sono ripetute nel corso degli anni ma tutti i governi hanno risposto al diciamo a quello che è il progetto delle elite dominanti che dopo aver distrutto un intero stato sociale adesso è la volta della della sanità della fetta di PIL più grande quindi che interesse hanno dicevi hanno interesse a fare in modo che l'ultimo la sanità che è rimasta in capo allo Stato adesso passi totalmente praticamente nelle mani private mandando avanti i sanitari che poi sono costretti a ricevere quegli episodi di aggressioni perché appunto poi sono loro che ne pagano che pagano le conseguenze di un servizio che non dà risposte ai bisogni di salute al bisogno che l'unico diritto appunto che la nostra Costituzione ritiene fondamentale che è la salute per cui ecco quindi il sistema fa il suo gioco poi si serve dei dei sanitari che manda al fronte a prendere purtroppo poi il resto come dire ad assorbire tutta la frustrazione il malcontento della gente che si riversa in questo modo non potendo non è visibile non potendo essere visibile chi sono i responsabili della distruzione della nostra conquista sociale più grande giustamente tra virgolette le persone si riversano riversano la loro frustrazione nei confronti dei sanitari e anche qui il governo cosa fa non fa non adotta un provvedimento volto a curare alla radice il problema ma aumenta i presidi di polizia nei pronto soccorso quindi sempre e solo provvedimenti cosmetici diciamo così superficiali volti a mettere pezze su pezze a un sistema che appunto sta esplodendo queste pezze sono state messe per 30 anni diciamo e adesso ce le troviamo forse nel di dietro e quindi è un sistema della guerra a mio avviso la guerra non è solo quella al fronte ma è una guerra che viene condotta su tutti i fronti dell'umanità all'umanità in senso lato su tutti i fronti e il nostro paese è stato scelto come paese guida di politiche di austerità per esempio sulle politiche vaccinali e quindi di istruzione di quella che è la conquista sociale più grande l'eccellenza italiana nel mondo quindi tutto programmato in questo senso e quindi è davvero molto io direi l'emergenza sanitaria e adesso che il sistema ti mette in attesa per un attack una risonanza ti mette in attesa per mesi anche anni quando invece ieri ti aveva obbligato a una vaccinazione a tappeto in pochissimi mesi appunto quindi come gli stessi che ci tengono la nostra salute ecco subito rendono disponibili i vaccini su territorio nazionale per tutti obbligatoriamente a tappeto mentre invece appunto se hai bisogno di un attack di una risonanza devi aspettare anni mesi anni quindi questi sono tutti i termini delle contraddizioni di questo sistema che stanno venendo a galla che stanno esplodendo e noi facciamo bene in questa trasmissione a sviscerarne a parlare a rendere pedotti i cittadini del fatto che per esempio sulle liste d'attesa basta nominare una legge la legge 124 del decreto legislativo 124 del 98 che subito quelle liste che erano chiuse si riaprono quelle agende che erano bloccate si sbloccano perché questo sistema è sì talmente forte e grande ma è stupido fondamentalmente quindi basta farsi vedere un po' consapevoli un po' diciamo basta esercitare un dissenso intelligente che si riesce a trovare appunto a trovare risposte si riesce a respingere quelle quel tipo di risposte appunto per esempio le agende sono bloccate o le liste sono chiuse quindi e concludo la salute ecco una delle nostre diciamo battaglie che stiamo conducendo è che se la salute è un diritto fondamentale viene prima di tutto e allora deve venire prima anche dei vincoli di bilancio perché appunto è un problema politico non è vero non esiste la scusa che i soldi sono finiti sono pochi non ce ne sono ma è solo un problema politico di quanto noi vogliamo continuare a preservare la natura pubblica e universalistica della nostra conquista sociale più grande e quindi noi interveniamo abbiamo capito che quando gruppi di cittadini si organizzano a condividere una azione comune la si ha sempre vinta e quindi adesso è tempo di operare delle politiche redistributive che tolgano magari a chi si è ha ingrassato i propri profitti in questi anni penso a Big Pharma appunto per quindi passare gli extra profitti di questi e redistribuire e mettere soldi a pioggia proprio a fondo perduto helicopter money come si dice sulla nostra sanità pubblica perché è l'unica misura atta a risolvere alla radice il problema appunto che stiamo affrontando in questa discussione ti devo dire che in realtà non perché abbia neanche una grande simpatia anzi per nulla per le grandi queste grandi case farmaceutiche voglio dire perché non è non è così evidentemente ma ti dico questa cioè in realtà non servirebbe neanche tassare i famosi extra profitti di Big Pharma basterebbe semplicemente che ci fosse una banca almeno centrale dai possibilmente collegata al ministero del tesoro e quindi noi dobbiamo andare a prima del 1981 dove evidentemente ci possano essere delle possibilità di fare delle politiche diverse che se non è almeno stampare i soldi almeno non so farsi prestare i soldi dalla banca d'Italia insomma quindi non diciamo nulla di nuovo cioè voglio dire qui si tratta veramente di capire che cosa diamine vogliamo fare ecco la domanda infatti a Massimo è questa cioè Massimo ci si è detto un sacco di cose Raffaele ci ha dato un quadro veramente che insomma in questo momento effettivamente è quello che è e che si fa che si deve fare come facciamo come la risolviamo questa faccenda qua secondo te con una visione un po' così un po' alla Elon Musk partiamo per mondi diversi andiamo a vivere su Marte volevo aggiungere qualcosa all'intervento di Raffaele che è stato molto puntuale lui diceva che durante la pandemia i medici c'erano ce n'erano a sufficienza soldi ce n'erano ce n'erano a sufficienza erano preoccupatissimi per la nostra salute com'è che adesso non sono preoccupati com'è che adesso i medici non ci sono com'è che le liste d'attesa sono così lunghe quando invece prima facevano centinaia di migliaia di vaccinazioni in una settimana come mai erano arrivati da Marte quei medici dove sono finiti adesso questi medici adesso sono andando via sì sì quindi non non si capisce no secondo me dietro la distruzione del sistema sanitario ci sono due tipi di strategie una è quella di dare più guadagni al privato ok quindi come si fa per dare più guadagni al privato si comincia a fare in modo di rendere inefficiente la sanità pubblica in maniera tale che il popolo stesso domandi una soluzione alternativa e la soluzione alternativa qual è? la sanità privata foraggiata con i soldi tra virgolette pubblici ok molto ma poi costringendo la gente almeno quella che può ad andare a pagare direttamente la sanità privata ok e poi c'è anche una questione di controllo Agamben aveva detto bene quando aveva detto che il green pass non era lo strumento ma l'obiettivo ok tu quando tocchi la salute della gente tocchi le corde della paura della morte ok e quindi la gente è più malleabile tendenzialmente un buon 70% delle persone di fronte alla possibilità di morire eccetera diventa molto malleabile è una minoranza quella che non si fa sconvolgere da quella che è una cosa purtroppo naturale tutti lì dobbiamo finire c'è finito anche Kissinger a cent'anni ma c'è finito quindi tutti lì dobbiamo finire e quindi questo gli permette di avere un notevole controllo no e quando tu distruggi la salute della gente poi ce l'hai in mano ok perché la gente ha paura quando la gente ha paura la controlli e la gente stessa pur di essere poi garantita in qualche maniera con un piccolo reddito con qualche cura che può essere anche il vaccino qualsiasi cosa perché poi bisogna fidarsi della scienza è disposta a cederti tutto e questo è il loro obiettivo che noi cediamo tutto le soluzioni quali sono? beh la soluzione tecnicamente sarebbe fare spesa pubblica non c'è neanche bisogno di avere una banca centrale per fare spesa pubblica no? quando lo Stato spende immette risorse nel sistema privato quindi basterebbe quello facendolo chiaramente nella direzione degli investimenti che ci interessano per esempio quello in sanità avremmo risolto il problema nel giro di qualche anno chiaramente non lo risolvi nel giro di qualche mese però nel giro di 5 anni potremmo tornare ai livelli di sanità che avevamo negli anni 90 certo che bisogna cominciare se tu invece hai deciso che i soldi te li deve prestare il mercato non si capisce perché cioè io porto sempre l'esempio del Giappone che ha un rapporto debito pubblico che è del 250% quello non è un problema per forza non è un problema perché hanno la loro moneta sovrana loro gli investimenti li fanno ultimamente hanno tentato di tornare su una via liberista sulla strada liberista però sono subito tornati indietro perché i peggioramenti sono stati immediati perché noi non lo facciamo per una scelta politica semplicemente una scelta politica non di tipo tecnico ci prendono in giro anche quando dicono che fanno i governi tecnici perché i governi tecnici non esistono quelli sono governi cioè Draghi sa benissimo come funzionano le cose è stato allievo di Federico Caffè Draghi è assolutamente non uno stupido perché si comporta così perché ha un mandato ha deciso di assolvere quindi la gente la soluzione è rendersi consapevoli che poi bisogna riempire le piazze cioè non si può stare seduti sul divano a sperare che arrivi il salvatore la settimana scorsa abbiamo parlato di Trump il trionfo di Trump ma quello non viene mica a salvare noi ok quello farà i suoi interessi gli interessi della parte di elite che lo sostiene se va bene degli americani se va bene per gli americani ma non farà certo il nostro interesse non viene a salvarci noi dobbiamo solo cercare di infilarci negli equilibri che sono cambiati per cercare di fare il nostro interesse ma abbiamo una classe politica capace di fare questo o che abbia voglia di fare questo no perché non hanno né la voglia né sono capaci purtroppo quindi se volevi una soluzione mi sa che ti ho deluso nel senso che le soluzioni ci sarebbero no ma le soluzioni ci sono si vogliono le persone che siano in grado e abbiano la voglia la forza di portarle avanti sempre lì andiamo a finire però tra l'altro insomma io cioè c'è un elemento secondo me che vabbè si aprirebbe un'altra puntata no però anche il peso che hanno i media no cioè che hanno i giornali che hanno nella creazione di questa grande mitizzazione di questa sanità in braghe di tela perché non ci sono i soldi perché anche loro aiutano moltissimo no a neutralizzare le forze che invece vorrebbero dire aspetta un momento ma se non me la state raccontando giusto anche perché lo sappiamo cioè quando vuoi i soldi li trovi cioè questo è il punto vero no li trovi li trovi i soldi li trovi come li trovi lo sappiamo perfettamente in realtà questa questione dei soldi che non ci sono è una questione falsa è falsa è falsa perché noi non siamo più in regime quando diceva di moneta fiat a 50 anni questa roba qui è una cazzata va bene i soldi crescono sugli alberi ecco i soldi li crea oppure arrivano giù come la manna dal cielo sta roba qui ad affini quindi questo però torno un po' al punto no allora la classe medica quando c'è stato il covid non è stata in linea di massima nella sua gran parte perché poi le eccezioni sono state anche lì non è stata come dire alleata della gente secondo me Raffaele poi tu mi dirai se è vero oppure no però non lo è stata non lo è stata perché non ha detto la verità e adesso tra l'altro in questa fase qui dove c'è questa commissione covid che sta cercando di avere qualche testimonianza stiamo sentendo delle cose che fanno veramente rabbrividire ok cioè non è vero che avevamo imposto tachipirine vigilattesa stiamo così vedendo delle cose forse abbiamo visto abbiamo vissuto in un mondo diverso noi però la classe medica non è stata vicinissima no cioè comunque sono stati prescritti vaccini anche a donne in gravidanza cose di questo genere insomma anche con Massimo ne abbiamo parlato diverse volte tu ritieni che ci sia un passaggio uno scarto un qualche cosa specie nelle giovani generazioni da un paio d'anni a questa parte dopo questa esperienza oppure no Raffaele cioè secondo te non è cambiato nulla sempre inquadrati soldatini come la vedi insomma cioè c'è un guizzo anche lì lì all'aspetto un attimo anche basta con queste con queste bugie no cosa ne pensi? Guarda Katia prima faccivi l'esempio del medico che veniva a casa a visitarti gli ambulatori che erano dislocati sul territorio ecco quel medico il medico diciamo di Alberto Sordi il dottor Tersilli no nel medico della mutua l'immaginario di quel medico che con tutti i suoi limiti eccetera però le mani addosso della persona le metteva faceva una diagnosi come dire basandosi su degli elementi su una visita appunto vera e propria adesso i nuovi le nuove generazioni dei medici ormai la persona non la guardano più neanche in faccia fanno orientano la loro diagnosi e la loro terapia solo su parametri di laboratorio piuttosto che protocolli applicati a tappeto a tutti uguali senza rilevare la complessità e valutare la singolarità di quel rapporto di cura di quella persona che necessita di quella diagnosi di quella terapia ed ecco che proprio per questo le persone stanno proprio perdendo il rapporto di fiducia con i sanitari è ormai irrimediabilmente compromesso dopo quello che è stato nella stagione pandemica ed è per questo che oggi ci sono si verificano quelli spiacevoli episodi ai pronto soccorso che io ovviamente condano le aggressioni e tutto ma prendo le distanze anni luce dai miei colleghi che prima sono come piangono fanno le vittime ma sono i primi complici di questo sistema disumano che appunto ha a cuore solo il massimo profitto e non la salute né dei sanitari né dei pazienti per cui loro sono complici e quindi bisognerebbe fare molto altro ecco quindi prendere le distanze da questa medicina così riduzionista così materialista così che ancora riduce la patologia a disfunzione d'organo che ancora si tenta di imporre le cure senza appunto valutare la volontà le scelte il concetto di salute proprio di ogni singola persona quindi le persone si sono stufe sono stancate di essere pazienti diciamo semmai sono impazienti vogliono essere coautori del loro percorso di cura vogliono concordarlo il loro percorso di cura di una medicina che però prenda in analisi tanti altri fattori e non solo i parametri di laboratorio o gli algoritmi o i protocolli di questo passo le giovani leve le giovani dottoresse come dire saranno sostituite tranquillamente dall'intelligenza artificiale tanto è uguale metti lì due protocolli due algoritmi e si apposa infatti già stanno facendo l'ospedale con il metaverso quindi le stanno già configurando queste ipotesi per cui noi possiamo recuperare il rapporto di fiducia con le persone soltanto come dire oltre che mettendo a posto la sanità intesa come contenitore la sanità pubblica come sistema sanitario appunto ma oltre che mettere a posto la sanità pubblica come contenitore appunto c'è da mettere in mano ai contenuti cioè a chi fa poi la sanità alla medicina ci vorrebbe davvero una rivoluzione epistemologica della medicina che appunto non può essere più è talmente infiltrata davvero di ordo liberismo talmente infetta direi qua infestata di ordo liberismo che questa medicina ormai non tiene più il rapporto con i cittadini e infatti per esempio una delle nuove frontiere di azione che stiamo intraprendendo come il comitato di San Augusto della Costituzione è proprio per esempio le trasfusioni di chi ha scelto di non vaccinarsi cioè ecco la trasfusione che da sempre è stata una pratica clinica consolidata in medicina adesso ci sono tante persone che non si sono vaccinate che gradiscono ricevere sangue solo da parte di coloro che hanno fatto la loro stessa scelta e che stanno quindi ritirando il consenso a una pratica come la trasfusione quindi questo li sta mettendo molto in difficoltà però se vogliono recuperare il rapporto di fiducia ecco che noi consigliamo le trasfusioni dedicate tra soggetti non vaccinate e in generale diciamo che possiamo adesso che il vento sta cambiando anche dall'altra parte dell'oceano diciamo che abbiamo margine di intervento perché davvero sta diventando una piaga sociale questa del compromesso rapporto di fiducia con i sanitari e quindi io credo che adesso possiamo come dire dall'altra parte anche i miei stessi colleghi stanno capendo la verità sta venendo a galla non possono ammetterla evidentemente sull'evento avversi da vaccino per esempio ma ci aprono aprono ci aprono le porte come dire e quindi adesso è tempo più che di scontri ne abbiamo fatti tanti adesso è tempo di incontrare è tempo di incontri cioè loro dall'altra parte sono vittime proprio come noi da un'altra prospettiva e quindi adesso per una riconciliazione sociale è tempo il tempo è propizio per cercare degli incontri e per appunto sensibilizzare a un a un cambiamento che sia radicale e dei contenitori della sanità pubblica quindi e dei contenuti della medicina sai che mentre parlavi no mi è venuta in mente quella scena non so se avete presente no tre uomini in una gamba mi pare sia tre uomini in una gamba con Aldo Giovanni e Giacomo dove c'è questa scena mi pare che Giacomo si ammali non lo so finiscono all'ospedale e c'è questo dottore questo attore tra l'altro bravissimo scusa non ricordo il nome che ha questo modo no e gli dice guardi sicuramente questo e comincia a fare una sorta di diagnosi così guardando e Aldo Baglio gli suggerisce quali sono effettivamente i sintomi e quali potrebbe essere la cura no e il dottore risentito risponde lei stia zitto lei non capisce magari lo mettiamo poi in trasmissione anche questo perché mentre parlavi mi è venuta in mente questa scena effettivamente del paziente che vorrebbe in qualche modo comunque dire la sua e viene zittita in questa maniera ed è una scena divertentissima tra l'altro abbastanza realistica in certi casi non in tutti fortunatamente va bene io lascerei guarda un minuto Massimo se la vuoi chiudere tu un minutino e poi ci salutiamo allora direi che la trasmissione è stata molto interessante soprattutto per gli spunti che ci ha dato Raffaele io direi che bisogna lottare per questo sistema sanitario che dobbiamo assolutamente rimettere rimettere in sesto perché senza la salute purtroppo poi tutto il resto conta ben poco e purtroppo lo vediamo con tutte le persone che stanno soffrendo di avversi per questi vaccini che purtroppo vengono anche abbandonate dal sistema sanitario perché vengono non visti che vederli vorrebbe dire ammettere di aver sbagliato l'errore è stato è stato grosso troppo per ammettere gli errori bisogna essere persone coraggiose quelli che hanno preso le decisioni sono tutt'altro che coraggiosi sono dei pavidi che hanno seguito eseguito degli ordini sapendo anche essendo coscienti del male che andavano a fare perché non ci credo che nessuno dei vari medici che facevano parte del comitato tecnico scientifico o di quelli che apparivano in tv eccetera a meno poco di credere che siano assolutamente impreparati non avessero idea di quello che poteva succedere che una qualsiasi persona che a dicembre del 2019 fosse andata sul sito della sanità inglese si rendeva conto di quello che stava per succedere ok e adesso non c'è neanche più la scusa della lingua perché col copia e incolla in chat gpt piuttosto che google translate lo capisci e loro non lo sapevano io ho parlato con dei medici chiedendogli ma scusate in giappone hanno una popolazione che è simile alla nostra molto anziana eccetera com'è che lì ne sono morti un decimo che qua e tu come medico non ti senti in dovere di indagare capire questa cosa non mi rispondevano dicevano che in giappone usavano le medicine per i cavalli a parte che dico se la medicina per i cavalli funziona vabbè dammela no tendo a dire se li è servita per far morire il 90% o meno di persone rispetto a noi probabilmente li li han curati pur partecipando a questa pantomima hanno hanno curato la gente ed è per questo che sono sopravvissuti ma la gente è stata lasciata morire il protocollo tachipirina poi anche quello che diceva prima Raffaele cioè curano attraverso i protocolli ma che senso ha curare attraverso i protocolli che senso ha allora cosa hai studiato a fare l'intelligenza artificiale lavora meglio di te allora perché sicuramente se devi applicare dei protocolli sbaglia meno in computer rispetto a te che sei umano se il tuo valore aggiunto di essere umano è a parte l'empatia è il fatto che riesci a fare dei collegamenti che l'intelligenza artificiale non fa perché elabora semplicemente delle informazioni che ha ma non ha una rete neuronale come quella del cervello umano perché non c'è intelligenza senza la coscienza caro Massimo esatto il problema è che a volte non c'hanno la coscienza neppure i giovani medici i giovani medici si stanno facendo un po' intortare da questo punto di vista insomma sì penso che un cambiamento ci voglia cioè torniamo all'umanità non dico all'umanesimo perché è un'altra cosa però una certa umanità secondo me urge ci vuole ci vuole in un certo modo dell'antico quella relazione tra il medico di base e la famiglia quello è fondamentale di ritornare assolutamente va bene è stata una una conversazione come al solito molto interessante non ci deludiamo mai tra di noi del bar devo dire una conversazione da bar da bar ma sempre sempre interessante grazie Raffaele grazie Massimo e alla prossima grazie a te grazie a voi quelli che ci hanno ascoltato a presto a presto ciao siamo in buone mare questo qui è un professorone a vercene capito dunque vediamo allora nome e cognome Giacomo Poretti e perché l'ho chiesto a lei è lei il malato? no ma lo conosco è mio cognato e secondo lei io devo compilare un documento che è ufficiale mettendo le informazioni del primo che passa che primo che passa? senta è il suo cognato? sì va bene allora com'ha detto che si chiama? perché non gliela chiede a lui Giacomo Poretti per favore siamo in ritardo non sta qui sempre a questione Giacomo Poretti allora vediamo un po' se tocco qui fa male oh no oh no oh no oh no è sicuro eh oh no è sicuro e invece se tocco qui no dottore perché noi gli diamo un calmante per endovenosa che ne so io tipo 4 cc di plecibio è medico non lo sapevo è medico e dov'è che ha studiato? mi faccio a sacro santo piacere di mettersi lì di stare zitto e non disturbi mentre faccio il mio lavoro signorina mi prepari un calmante dunque vediamo sì 4 cc di placebio per endovena ecco la lingua faccio vedere la lingua dottore secondo me c'è una colica renale che cosa le ho detto prima? di stare zitto e di mettersi lì lì sì però sono io che faccio le visite ha capito? sì però se tocchiamo qui ai 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 e gli fa male non è che può essere una tracheita adesso si mette anche a fare le diagliosi è arrivato il professorone è arrivato sa che cosa faccio? io adesso mi tolgo il camice mi tolgo il camice lo do a lei va bene? glielo do? vuole il camice? stia zitto non voglio più sentire neanche una parola ha capito? zitto caro signor salvo puretti caro signor puretti qui abbiamo una bella colica renale dobbiamo fare qualche esamino lei questa notte la passa qui dentro motivi precauzionali guarda che siamo già in ritardo incredibile non è che si può mettere a discutere con il professore è un professorone professorone di stirpe non è che si è inventato la voce a donna se sa quello che deve dire grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.